Tutto pizza! Tanti buoni motivi per ordinarla ogni sera. Usiamo anche farine biologiche, alcamut, integrali e dell'antico grano duro siciliano di Timilia con lievitazioni speciali. Il nostro forno a legna è di pietra naturale. Da noi trovi le buonissime focacce chiuse di sortino, i pizzoli. I nostri ingredienti, selezionati e sempre freschi, sono di primissima qualità e soprattutto a chilometri zero per gli amanti della buona pizza. Tutto pizza! Le nostre pizze hanno una marcia in più, quindi oltre ad essere più buone, arrivano prima. Noi siamo a trappeto, ma la nostra pizza calda e fumante arriva sino a casa tua. Non perdere altro tempo e ordinala subito! Tutto pizza! Tutti i sapori della buona pizza a casa tua!